ragazze non so cosa sia successo sul tablet ma improvvisamente si è spento quindi praticamente io sono andata avanti ma non ha registrato allora torno indietro con i prodotti che ho preso i due brick di succhi di frutta e i piatti di carta da 800 grammi che sono in promo piatti rigidi che sono 2,69 euro poi vi ho fatto vedere il limone questo qui in succo che è molto pratico e poi non so se sono riuscita a farvi vedere i fiocchi di cereali integrali e cos'altro manca? sicuramente mi sta sfuggendo qualcosa perché ho perso il conto di quello che vi ho fatto vedere e non vi ho fatto vedere i trapezini con prosciutto cotto e formaggio il birri ve l'ho fatto vedere, le insalate, gli affettati e niente ragazze non so perché ultimamente questi video mi stanno venendo divisi in due parti cercherò un attimino di capire la situazione mi sistemo tutta questa spesa perché soprattutto gli affettati il formaggio si sta iniziando a sciogliere e prossimamente arriverà un video spacchettamento perché ho ricevuto un pacco che vi voglio mostrare e voglio condividere con voi non so se vedrete prima questo video o vedrete quello dello spacchettamento e arriverà poi prossimamente un prodotti finiti quindi così libero anche la busta con i prodotti terminati e la posso buttare grazie sempre ragazze di seguirmi se il video vi è piaciuto mi dispiace a me che è stato suddiviso in due parti non so come fare spero che mi seguiate sia nella prima che nella seconda parte però cercate di apprezzare almeno la buona volontà di poter fare qualcosina e condividerla con voi sempre spassionatamente divertendoci e niente ragazze vi lascio, vi sistemo questa spesa un bacio a tutte e al prossimo video, ciao ciao